buongiorno a tutti eccoci per la segna stampa di oggi venerdì 22 gennaio e insomma oggi che cosa succede quali sono gli elementi principali beh c'è un'incursione giudiziaria tra virgolette ma neanche troppo tra virgolette sulla evoluzione della crisi di governo ammesso che effettivamente questo sia il problema e diciamo di questo ci occuperemo sicuramente poi ci sono comunque le cose che vanno avanti vedremo ci sono cose interessanti ci sta un'intervista ad alessandro di battista che forse da è da proprio il segno di diciamo qual è l'operazione che alcuni hanno in testa e soprattutto per chi pensa che sia utile andare avanti con il governo la maggioranza e dicendo c'è una una un chiaro contesto nel quale è un anche una chiara condizione nel quale si dovrebbe andare avanti che è sostanzialmente l'eliminazione non dico fisica ma da ne pari di battista quasi ci siamo di renzi poi abbiamo anche l'introduzione dei pentiti renziani in questo caso parlo di luca ricolfi sul messaggero che si dichiara un renziano pentito forse per controbilanciare l'articolo di campi l'altro giorno che invece dava merito a renzi di molte cose e questa storia dei renziani pentiti è una cosa che ogni tanto spunta cioè sono quelli che quando diciamo dovevano dichiararsi renziani non lo facevano e si vergognavano quindi nessuno sapeva dalle loro parole come esaltare il ruolo e l'azione di governo di renzi e che però si manifestano quando poi si pentano la politica va così la vita va così ce ne faremo una ragione però io direi che possiamo partire dai commenti scusatemi dal dall'evoluzione della crisi e poi vedremo anche qualche commento se ce la facciamo allora è il corriere della sera che io salto la parte cesa eccetera eccetera perché la considero in un capitolo appunto a parte ma vorrei prima dirvi qual è l'evoluzione quindi a pagina 3 del corriere della sera monica guerzoni ci dice un colpo alla trattativa per allargare l'alleanza le due strade di conte e il momento 5 stelle ma il dialogo con gli indagati mai il dialogo con gli indagati per reati gravi il premier affida la delega per gli 007 a benassi questo lo vedremo anche sui su altri giornali e ci dice alessandro trocino i numeri della maggioranza caccia 10 senatori per salvare l'esecutivo e ci informa trocino che si conta di recuperare 4 5 d'italia viva e 3 da forza italia le voci sul ritorno al pd di maratin ma lui dice è falso ecco questa è la sintesi che fa il corriere della sera io sono anche un po sonato stamattina perché questa notte è finita dopo le due la riunione che abbiamo fatto di tutti i senatori e deputati penso che ci sarà in modo questa mattina di informare con un comunicato ufficiale su come è andata la riunione diciamo che questa sintesi del corriere della sera mi sembra un pochino fuori scala ma per carità e se voi andate a pagina 8 la mossa di renzi confrontiamoci e questa è invece maria teresa meli che racconta come vanno le cose e in italia viva dice la meli dobbiamo lasciarli cuocere a fuoco lento come vedete stanno faticando a trovare parlamentari e quelli che hanno trovato adesso conte travaglio dovranno anche difendere l'imputata del rubiter la rossi matteo renzi detta la linea ai fedelissimi nel contempo cerca di tranquillizzare i suoi parlamentari di far capire loro che lo strappo è stato il premier a provocarlo e non il contrario per questo prima della riunione dei gruppi di italia viva in un'intervista piazza pulita dice l'astenzione è un aprirsi al compromesso e il mio personalissimo suggerimento al presidente del consiglio e a tutti gli altri e smettiamola di fare polemiche se volete confrontarvi noi ci siamo dunque un modo per far vedere a chi nella pattuglia di italia viva non è convinto dello strappo che se non si rinodano i fili del dialogo la colpa non è certo sua del resto sono giorni che renzi va ripetendo di volere il confronto lo ha fatto anche nel suo pur duro intervento al senato per ora comunque i gruppi parlamentari italia viva reggono anche se qualcuno ha già la valigia in mano per tornare nel pd eugenio comincini per esempio virgolette io non posso andare all'opposizione chiuse virgolette leonardo grimani l'opposizione feroce al governo non fa per me io voglio che si riapri al dialogo quindi grimani confessa ho avuto contatti informali con alcuni colleghi del pd e del momento 5 stelle dico che anche un terzo senatore mauro marino dicono anche un terzo senatore mauro marino che non ha partecipato al voto di martedì perché malato di covid stia modi meditando l'addio ma il pd sta corteggiando pure la presidente della commissione sanità palazzo madama anna maria parente e un'altra senatrice nadia g sarà ginetti vabbè proveniente anche lei dai banchi dem è il richiamo della foresta ironizza un renziano di ferro uno di quelli che avrebbe riferito di gran lunga il voto contrario all'astenzione non sono io per essere chiaro per questa ragione renzi e i suoi fedelissimi sono dediti a un monitoraggio continuo dei gruppi di italia viva e ieri sera l'ex premier ha convocato una riunione dei deputati e dei senatori con una preghiera evitare di fare troppe dichiarazioni prima di quell'assemblea in cui in nome dell'astenzione e della possibilità che il governo conte non ce la faccia renzi è riuscito a tenere i suoi gruppi parlamentari più compatti possibile ma ieri è stato anche il giorno delle smentite senatori d'italia viva dati in fuoriuscita dal partito hanno negato questa eventualità il calabrese enrico magorno io ho fatto io ha fatto con forza non sono in vendita e ha dichiarato anche un po risentito perché l'avevano dato appunto pronto all'addio in cambio di un aiutino per la statale ionica e gersonina volo un'altra senatrice sospettata di voler rompere correnzi ha fatto sapere io resto con matteo daniela sbrollini anche lei data in partenza per entrare nel partito democratico ha smentito sebbene con minor vigore adesso sulle smentite noi tariamo anche con quale vigore viene dato non viene data una smentita siccome non è sufficiente perché rovina un po i piani adesso non mi riferisco alla povera Maria Teresa Melli ma più in generale che magari c'è qualcuno che veniva dato per scontato che se ne sarebbe andato smentisce e allora tariamo qual è il vigore con cui smentisce ma vabbè andiamo avanti renzi cerca di spiegare la strategia futura ai suoi anche per convincere che la strada della rottura con il governo conte non è stato un errore conte continua a fare finta di nulla il pd non perde coraggio non prende coraggio ma intanto la loro campagna acquisti non sta andando affatto bene dobbiamo solo aspettare perché non è affatto detto che tra un mese ci sia ancora conte a palazzo chigi e poi ricordatevi sempre che le elezioni in primavera non si faranno forse le vogliono il premier una parte del pd ma tra i dem di governo c'è contrarietà e i grillini non ci pensano lontanamente renzi è convinto che nonostante il pressing forse nato sui suoi parlamentari a volte anche sleale i gruppi tutto sommato terranno non mi risultano tutte queste fuoriuscite di cui leggo sui giornali e questo è quello che ci dice maria teresa su sulla situazione nel pd poi c'è il retroscena invece di maria teresa meli sul partito democratico il pd spera nel soccorso degli azzurri ma la situazione è molto difficile e un ministro spiega se l'esecutivo non decolla non ci sarà un ter per il premier e qui come vedete nonostante poi ancora il tema delle elezioni viene ancora una volta per spaventare un po tutti rianimato rimesso in pista e vi dicendo però vedete che qui non è che si dice se l'esecutivo non decolla si va al vuoto se l'esecutivo non decolla non ci sarà un ter per il premier che diciamo vabbè nelle valutazioni poi di ciascuno di noi non è detto che sia proprio questa tragedia ma Emanuele Buzzi invece intervista il sottosegretario 5 stelle fraccaro mai un governo senza conte se non ce la faremo ecco ne è arrivato un altro l'alternativa è il voto diciamo mi risulta che fraccaro non fosse particolarmente popolare nel momento 5 stelle in particolare nei gruppi dei 5 stelle alla camera del senato penso che con questa diciamo intervista e con questa affermazione lo sarà ancora di meno se volete c'è poi una nota di massimo franco un avvitamento che complica qualunque compromesso e poi passiamo invece alla repubblica repubblica andiamo alla pagina 4 perché la repubblica nelle pagine successive alla prima si occupa del recovery e della bcema lo vedremo tra poco a pagina scusatemi la repubblica è a pagina 6 dobbiamo andare a dio dc si complica all'operazione responsabili conte teme lo sgambetto e poi qui c'è c'è uno specchietto che viene fatto con cosa succede perché il momento 5 stelle mette il veto sui centristi il pd torna alto il rischio delle elezioni indovinate chi è che la frase di chi viene riportata in questo articolo di giovanna vitale bettini ribadisce il no ai governi istituzionali mai con questa destra tra i dem c'è chi è pronto a discutere il sacrificio di conte e rieccolo qui vedete che rispunta anche qui il fatto che diciamo non è detto che ci siano ci sia un conte eterno non è detto che ci siano elezioni ma insomma ci sono tante tante alternative che vedremo quando si realizzeranno c'è appunto la notizia di benassi che viene messo ai viene data la delega ai servizi segreti e si dice giudicare l'inteli a guidare l'intelligence il il diplomatico merkeliano vicinissimo al premier vincenzo nicolo che scrive ma poi nel taglio basso invece c'è un'intervista al sindaco di bergamo gori che dice bisogna ricucire correnzi e serve una maggioranza ursula non si può allargare la coalizione di governo con una campagna acquisti bisogna aprire l'alleranza aureo a più europa azione e anche forze a forza italia questo è quello che dice gori andiamo a vedere la stampa la stampa si occupa nelle pagine successive della prima della bambina di dici anni che si è praticamente suicidata con una cosa che riguarda tiktok ma qui insomma abbiamo a pagina quattro buona fede e guai dell'udc due grane in vista per conte e di maio minaccia il voto ecco non altro forti malumori nella maggioranza congelata la caccia responsabili piero benassi nominato sottosegretario avrà la rega la delega dei servizi e nicolò invece carla questo era ilario lombardo nicolò carratelli dice un po qual è il quadro della situazione nel taglio basso della pagina 4 della stampa se italia viva vota contro il governo rischia sulla giustizia il primo bivio per il premier giovedì l'appuntamento in senato i numeri sono risicati e difficilmente potrà arrivare l'aiuto del centrodestra segnalo che dovrebbe essere mercoledì peraltro ma vedremo oh e qui arriviamo alla prima magica intervista quella di grazia lungo a alessandro di battista che viene presentato come ex deputato 5 stelle e che cosa senz'altro è e poi ci dice coi responsabili ma non si è indagati e il titolo è stare senza renzi val bene una messa e allora la domanda che fa l'intervistatrice allora è contento del fatto che l'ex premier fiorentino non sia più al governo e come se lo sono era ora renzi rappresenta ciò che è rimasto del giglio magico il peggio dell'establishment politico il governo andava assolutamente derenzizzato perché non è ammissibile che uno che ha il 2 per cento dei consensi si mette in testa di poter dettare legge agli altri diciamo a coloro che magari anche tra di noi pensano poi che sia giusto andare avanti senza Italia Viva nel governo ecco diciamo questi sono i compagni di viaggio e questa è la ragione di alcuni non sicuramente tutti i 5 stelle lo vedremo che invece dentro il quale si è aperto un dibattito sul fatto che bisogna riprendere un dialogo con Italia Viva ma insomma questo è ma non finisce qui dice come mai secondo lei Renzi e Italia Viva si sono astenuti invece di votare contro la fiducia del governo vogliono tenersi aperta alla porta per un potenziale nuovo coinvolgimento e anche qui diciamo le parole di Di Battista nei confronti dei parlamentari dell'Italia Viva sono significative e questo è bene che ce ne rendiamo conto tutti io sono convinto dice Di Battista che Renzi da pessimo soggetto qual è quindi qui non siamo più neanche nelle categorie della politica e qui siamo nelle categorie diciamo personali in realtà volesse votare contro ma i suoi di Italia Viva lo avranno boicottato lo avranno convinto a sposare la strada della stensione dice Di Battista molti di loro sono dei politicanti ma non nego che in mezzo ai tanti ci possano essere anche brave persone ecco capite cioè adesso lui non nega che magari tra tanta merda ci sia pure un po' di qualcos'altro insomma questo è Di Battista però il presidente del consiglio Giuseppe Conte in senato ha solo la maggioranza relativa ce la farà a resistere domanda la giornalista e la risposta di Di Battista è laconica non lo so staremo a vedere io ovviamente me lo auguro e allora arriva la domanda della giornalista che dice ma non trova nulla da dire sul sostegno di alcuni responsabili come il senatore Alfonso Ciampolillo ex momento 5 stelle espulso dal partito al termine dell'istruttoria sui mancati rimborsi poi confluito nel gruppo misto o l'ex fidatissima di Berlusconi la senatrice Forza Italia Maria Rosaria Rossi e risponde Di Battista un governo senza Renzi va bene una messa quindi benvengano anche Ciampolillo e la Rossi guardi a mio avviso l'importante è non stare dietro alle farnitecazioni di Matteo Renzi continua a dire che il premier Conte ha fatto l'inciucio con Clemente Mastella ma che inciucio è inciuso se Mastella non siede neanche in Parlamento sono tutte polemiche sterili figlie del peggior renzismo e questa è la risposta di ora diciamo già uno che sostiene che non si può fare un rinciucio perché Mastella non è in Parlamento vabbè penso che insomma sia una cosa molto significativa va bene questo era Di Battista sulla stampa sulla stampa e vediamo altri quotidiani come la mettono abbiamo adesso il giornale perché vediamo anche i giornali anzi sì vediamo il giornale pagine successive alla prima e il titolo di apertura è significativo in campo anche le toghe le toghe rompono nella crisi politica il centrista cesa indagato è Massimo Malpica che per mafia è indagato scrive sul pagina 2 del giornale e così a pagina 3 ad Alberto Signore invece scrive un articolo intitolato pallottoriere fermo e i nemici di Conte usano i guai UDC per aprire la fronda i costruttori dati per certi dal Premier non ci sono Di Battista e Di Maio aprono la questione morale e stoppano i centristi in bilico per salvare in Senato Bonafede mancano ancora due voti i dubbi del PD poi si dice che Cesa è l'ultimo custode dello scruto crociato e poi ci sta un fondo nel taglio basso Gratteri l'idolo 5 stelle che parentesi forse ha tradito perché i tempi con i quali è intervenuta questa cosa fa pensare a qualche 5 stelle e non solo a qualche 5 stelle che non sia casuale poi il retroscena di Pasquale Napolitano Ministeri in svendita 007 conto e pronto a cedere la delega e questo sappiamo che è stata già ceduta e vedete che qui nel retroscena di Domenico Di Sanso sul giornale si dice Dibba chiude a Cesa Di Maio lo rincorre e i 5 stelle sono tentati di tornare da Renzi l'ex capo politico avverte nessun dialogo con chi è indagato per mafia se volete sapere cosa il giornale pensa di Renzi lo potete trovare a pagina 5 nel retroscena di Giuseppe Marino Renzi ci ripensa sì al dialogo ma il PD vuole solo i renziani il leader di Dalia Liga dice siamo ancora in tempo per un accordo i Dem continuano a fare la corte ai suoi parlamentari e vabbè questo è quello che trovate sul giornale andiamo avanti perché abbiamo anche il capitolo Cesa che voglio affrontare il tempo fa un'operazione doppia in prima pagina Conte paga la cassa ai cognati è Franco Becchis che scrive e poi occupa le pagine 2 e 3 del tempo e che cosa vuol dire dice ammortizzatori Conte pure ai suoi cognati utilizzati i decreti cura Italia e il rilancio Italia per pagare un po' meno di 1000 euro al mese anche ai familiari della fidanzata del premier che sono sia dipendenti che proprietari del gruppo l'impero di famiglia è in difficoltà ma avviene in soccorso una transazione con unicredit con donati 11 milioni di mutuo sui 15 da saldare con una SRL e 4 su 6 da pagare con un'altra insomma qui c'è un attacco frontale al premier per questa storia e poi si continua su questo perché a pagina 4 devono alla raggi 11 milioni la famiglia della compagna del premier non ha pagato imu e tasi al comune di Roma insomma questo è il quadro ma poi se si va nelle pagine del tempo 8 e 9 ci si occupa della situazione politica Conte in ginocchio dal PD la speranza del premier è che i dem convincano alcuni renziani a tornare in maggioranza il leader di Italia Via spinge per riallacciare il dialogo smettiamola di fare polemiche se volete contrattiamo nelle sedi istituzionali ma le due cose interessanti che pone oggi il tempo poi sapete che le dichiarazioni possono soprattutto di determinati personaggi possono essere smentite non dopo 10 ore ma dopo 10 minuti però intanto a pagina 9 del tempo è uno di quelli che veniva dato per possibile entrante nei responsabili e che è stato se non sbaglio anche ricevuto ieri a Palazzo Grigi dal premier era il mitico Gian Russo è uscito al momento 5 stelle ma oggi sul tempo sembra che così non sia Conte mi ha cercato ma non ci sto Mario Gian Russo racconta l'incontro col premier e di come non ha ceduto al corteggiamento dice tra l'altro se pensano di prendermi per il naso con le parole sbagliano di chiacchiere e lastricata la discesa rapida verso l'inferno un altro caso che viene messo in rilievo dal tempo è quello di De Bonis dice Severio De Bonis condannato alla corte dei conti non poteva partecipare a un bando prese fondi agricoli senza requisiti vuol fare il ministro dell'agricoltura e lì poi c'è una bella gara una competizione di livello perché oltre a questo De Bonis c'è anche quell'altro Ciampolillo che vuole fare il ministro dell'agricoltura a meno che non facciamo un ministro dell'agri e uno ministro della cultura cosa che questo governo sicuramente potrebbe in questa situazione anche immaginare è difficile trovare sanare questa situazione diciamo e che se non fosse una farsa che se non fosse una tragedia appare più come una farsa tutto questo ma poi c'è un altro ispetto che mette in evidenza il tempo perché si deve votare si deve votare la relazione sullo stato della giustizia di Buonafede al senato mercoledì prossimo e la domanda che si fa Riccardo Mazzoni e non è una domanda da poco è come farà il volenteroso Nencini a votare la relazione sulla giustizia dice che l'esponente socialista il 20 maggio ha già negato la fiducia al guardasigilli quindi che cosa succede che quando noi votammo la fiducia e lasciamo perdere per carità di che cosa di Parria a Buonafede nel maggio del 2020 Nencini in dissenso dal gruppo ma poi lui rappresenta il partito socialista quindi diciamo era già considerata una parte che stava dentro il gruppo ma con una sua autonomia votò contro la fiducia al guardasigilli e adesso che ha votato la fiducia a Conte sarà molto interessante vedere come si comporterà Nencini rispetto a un tema quello sulla giustizia rispetto a quale non solo lui ma i socialisti in generale sarà interessante vederlo e soprattutto sarà interessante per Conte perché se vengono meno anche i numeri di quelli che gli hanno dato la fiducia la cosa diventa un po' complicata ma insomma andiamo andiamo avanti e vediamo adesso il riformista il riformista con in prima pagina mette attenzione Renzi è tornato col punto esclamativo e non è una preoccupazione ma credo mi pare sia una buona notizia per Claudia Fusani che scrive comunque Renzi è Conte dice Claudia Fusani a pagina 4 ripartiamo dalla lettera a parentesi che non hai mai letto dopo il caso cesa sempre più difficile mettere su la squadra di costruttori il presidente del consiglio è tentato dall'andare alle elezioni con un suo partito ma i 5 stelle non vogliono le urne e questo mi pare che sia un dato di fatto poi a pagina 5 c'è un'intera pagina con un'intervista fatta da Aldo Torchiaro a Carlo Calenda che che diciamo ci vuole tanta pazienza ma ce l'abbiamo un polo liberal per scippare PD e Forza Italia alle tribù populiste Matteo no grazie ora già il termine scippare diciamo francamente non è un termine vabbè ognuno usa i termini che vuole e poi c'è il tema Matteo grazie e questo sta subito nella domanda che fa Torchiaro che prima gli domanda dove è azione dice Calenda che azione sta sempre lì e che comunque vuole per le prossime elezioni una lista unica liberal democratica eccetera eccetera e tra l'altro dice Calenda gli fa l'intervistatore e anche con Italia Viva no risponde Calenda e non perché abbia qualcosa contro Italia Viva ma perché penso che la leadership di Matteo Renzi sia mostrata randomica tattica e non chiara e per noi sono più importanti le cose che si fanno rispetto alle cose che si dicono la gestione di questa crisi è stata molto caotica per noi è molto difficile ora avviare un percorso di lavoro con Renzi anche perché lui non lavora bene con nessuno ed è uno che ogni due giorni cambia idea diciamo che queste ultime due righe sono esattamente quelle che vengono applicate a Calenda basta vedere tutta la vicenda romana ma insomma e però mi spiace che Calenda diciamo si riduca al tema del carattere anche perché è una cosa controproducente perché Renzi lui e anche io se vogliamo ma tanti altri possono avere un pessimo carattere ma il tema è quello che poi si fa e in particolare rispetto all'accusa della conduzione randomica e via dicendo qui c'è un problema per Calenda e cioè che quando iniziò tutta questa vicenda con le dimissioni e via dicendo Calenda affermò con un tweet se non sbaglio ma è possibile qualcuno può pensare che tutto questo casino finisca con un rimpasto vi ricordate perché dava per scontato che fosse un blef cosa legittima dal punto di vista politico sarebbe però intellettualmente onesto nel momento in cui questa vicenda non finisce come Calenda aveva preventivato che invece che attaccare Italia Viva Renzi per una conduzione randomica e via dicendo diciamo lealmente dicesse avevo pensato una cosa che non si è realizzata è anche un po' più elegante è anche un po' più rispondente alla verità ma poi siccome le cose bisogna leggerle bene e io mi affido a dove Calenda dice molto difficile ora avviare un percorso molto difficile non vuol dire che è impossibile anche perché vedo che nelle sue intenzioni c'è un appello dietro il mancato sostegno alla mia candidatura c'è il disegno di una totale omologazione tra Dem e Grillini ecco magari qualcuno di noi compreso Renzi che l'altro giorno ha fatto chiaramente un endorsement per la candidatura di Calenda a Roma si sta spendendo per questa candidatura poi nel proprio piccolo ciascuno per quello che rappresenta Roma noi probabilmente non rappresenteremo niente e io continuo a spendermi perché al di là delle critiche randellate che ogni tanto Carlo Tira penso che la candidatura di Calenda sia una straordinaria opportunità per questa città e la miopia con la quale il Partito Democratico sta cercando di impedirla deve essere combattuta e poi dice Bonafede andrebbe accolto in aula con i pomodori noi aperti a Nannicini Gori Quartapelle Carfagna e Bergamini a loro dico che fate ecco diciamo la stessa domanda che io mi permetto di rivolgere a Calenda ma che fai? ma allora invece di continuare a pensare che fai tu che faccio io pensare di avere la titolarità di una lista liberal-democratica ora francamente diciamo sicuramente è un liberal-democratico Calenda ma non è che il perimetro della liberal-democrazia del pensiero liberal-democratico socialista radicale laico in questo paese sia come dire circoscrivibile esclusivamente un'iniziativa politica che prende Calenda io penso che tutti Calenda per primo ma tutti noi dovremmo un po' smetterla di punzecchiare l'uno all'altro e invece avviare rapidamente la costruzione di un campo riformista liberale liberal-democratico laico e via dicendo che inizi a ragionare invece di pizzicarsi perché il paese e soprattutto un popolo di un elettorato non aspettano altro a mio avviso che qualcosa si metta in moto in questo segmento della politica che deve essere chiaramente equidistante sia dai sovranisti da una parte che dai populisti democratici dall'altra per essere chiari ma va bene scusate questa digressione ma insomma volevo farla c'è poi il foglio il foglio lo cito perché in prima pagina c'ha un colloquio con Del Rio e anche qui sentite bene perché è interessante dice ma se l'appello c'è la domanda che fa allegranti dice ma se l'appello di Conte non dovesse sortire effetti quale strade ci sarebbero e Del Rio risponde nella pagina 2 dell'inserto così per adesso non dice non diamoci subordinate ecco già quando uno esordisce per adesso non diamoci subordinate è inutile che vi leggo tutto il resto perché c'è chiaramente un riposoziamento rispetto a quello che avete sentito fino all'altro giorno o Conte o morte o Conte elezioni e via dicendo e questo mette anche in mostra lo dico a tanti che ci ascoltano che poi nonostante si voglia far apparire il Partito Democratico così monolitico nelle sue decisioni decisioni che ormai sono prese dal trittico sostanzialmente Bettini-Bersani-Dalema è diciamo che poi in realtà e mi auguro che questo emerga poi magari c'è qualcuno che ogni tanto alza la testa o forse per sbaglio dice delle cose che non sono perfettamente all'unisono esattamente come avete visto i titoli no Bettini o questo governo o le elezioni e via dicendo e invece Del Rio nella riga successiva dice il PD ha sempre detto due cose no a una crisi al buio no ad elezioni ecco diciamo non è esattamente quello che dice Bettini d'altra parte abbiamo visto Gori insomma quando diciamo che bisogna dare tempo al tempo io penso che questo in modo particolare riguardi anche il Partito Democratico e le sue scelte da ultimo voglio segnalarvi una pagina la pagina 9 del messaggero che mette in campo mette insomma a raffronto i vari sondaggi che ci sono stati riguardo il Partito di Conte e dice il Premier pesca nel non voto ma le destre sempre avanti la lista Giuseppe sfilerebbe all'astenzione oltre il 5% ma danneggerebbe PD e Movimento 5 Stelle e insomma l'attuale opposizione in caso di urne resta in testa con il 42% ma il 42% non ha capito la rottura insomma abbiamo visto che ieri invece i sondaggi che dava Piazza Pulita erano di tipo molto diverso e infatti si dice che il 58% di italiani lo strappo con Renzi ha indebolito l'esecutivo come i numeri e nel paese bene questo è quello che ci dice il messaggero chiudiamo il capitolo maggioranza e affrontiamo adesso il tema cesa perché affrontiamo il tema cesa perché Corriere della Sera pagina 2 blitz contro l'andrangheta cesa indagato mi dimetto e qui c'è una come d'altra parte sulla Repubblica c'è una intervista peraltro scusatemi nella pagina 5 e 6 si parla della inchiesta il leader dell'Udc stringe il rosario pronto a denunciare chi mi calunnia riunione fiume di cesa con i collaboratori sono amareggiato ma sereno credo nella fede e poi ci sono delle interviste una alla Binetti e un'altra non so a chi Saccone ecco la prima dice sono addolorata questa è una batosta l'appoggio a Conte riflettiamoci e l'altro Lorenzo ne uscirà e la linea è stabilita noi resteremo con il centrodestra e poi Giovanni Bianconi fa un'intera pagina dove ricostruisce le carte quel pranzo romano non ci servono soldi ma un referente così Gallo imprenditore legato alle coste incontrò il segretario centrista grazie all'assessore Talarigo ovviamente che cosa succede fissatevelo io non so se farò ancora la segna stampa allora ma come è accaduto su tante altre cose vogliamo parlare di Mario Oliverio il governatore della Calabria del partito democratico per il quale Gratteri aveva chiesto l'arresto che non fu concesso se non sbaglio dal Tribunale della Libertà o dal GIP non so da chi ma che fu comunque elemento essenziale per farlo saltare da candidato ricandidato della regione regione Calabria ovviamente cosa è successo che poi è stato prosciolto perché il fatto non sussiste a distanza di un anno quando ormai le questioni erano risolte ricordiamoci di quello che leggiamo adesso un'intera pagina di Bianconi su Corriere della Sera che descrive tutto quello che sta nelle carte che ovviamente sono arrivate alle redazioni dei giornali ma vedremo adesso ne parla direttamente anche Gratteri in cui diciamo sostanzialmente si avvia il processo mediatico ovviamente io sono abituato che per sapere se uno è innocente o colpevole bisogna aspettare i processi non accade così non è mai accaduto così e qui ci sta la descrizione di tutto quello le intercettazioni tutto quello che volete trovare e questo sta sul Corriere della Sera ma poi voglio segnalarvi anche la Repubblica prima di vedere l'intervista a Gratteri ma perché voglio segnalarvi la Repubblica che di questo si occupa nelle pagine 8 manco per niente va ah sì no scusate non la trovo più su Repubblica eccolo qua scusate pagina 4 e 5 Blitz antindrangheta indagato l'Udc cesa il PM è il terminale dei boss crotonesi bene questa è così la mette questa è l'altra pagina che Alessia Candito fa sulla Repubblica che ovviamente anche qui non manca di intervistare Gratteri vedremo adesso queste due interviste ma voglio ancora prendere invece la stampa che a pagina a pagina 6 l'andrangheta faceva affari con l'Udc voti in campo di appalti e contatti poi c'è Flavia Perina che ricorda chi il personaggio cesa dalla DC responsabili cesa 40 anni in equilibrio tra ombre e giochi di potere in passato alla fine dei guai per tangenti truffa e finanziamenti illeciti per tutti è un maestro di consenso organizzato e delle preferenze questo è il modo attraverso il quale mette la questione la la scusatemi la stampa il messaggero a questo proposito se non sbaglio a pagina 7 a pagina 6 indrangheta cesa indagato bomba sul gruppo centrista momento 5 stelle mai con inquisiti gravi e l'abbiamo visto il pranzo al ristorante con l'uomo del clan ci introduce con un ministro in Albania e poi c'è Paolo Abinetti che dice pronta a tutto per salvare la legislatura il progetto del premier mi interessa ecco sono parole un po' diverse da quelle che abbiamo visto su altri giornali ma adesso veniamo alle interviste a Gratteri perché sono molto interessanti intanto dalla Repubblica intervista di Giuliano Foschini la domanda gliene fatta è si presenta però come imprenditore gli interlocutori potrebbero non sapere chi hanno di fronte cioè a proposito di intercettazioni di quello che accade e via dicendo e quello il giornalista gli dice ma quello se si presenta come imprenditore quelli come fanno a sapere che magari è uno che ha queste ramificazioni e diciamo Gratteri che è dotato di una grande umiltà e soprattutto di una diciamo ponderazione delle cose che dice risponde così certo che sanno in questo caso non possono non sapere che chi era loro di fronte aveva già avuto precedenti penali o era già espressione delle famiglie dell'elite dell'Andran della provincia di Crotone cioè perché se io vado a pranzo imprenditore e dico scusa ti dispiacerebbe prima che ci sediamo a tavola se mi fai vedere il tuo coso dei carichi pendenti e via dicendo vabbè nelle perquisizioni abbiamo trovato milioni di contanti orologi di lusso auto e parliamo di un imprenditore molto medio piccolo Talarico sapeva perfettamente che Gallo andava a rivolgersi alle cosche di Reggio eppure lo assecondano per poi poter avere voti in molti cercano di sfuggire a questi fatti che sono chiari evidenti senza porsi la domanda principale fino a quando sarà possibile aprire la porta a cui l'andrangheta bussa e l'interrogativo cruciale attorno al quale ruotano tutte le inchieste che abbiamo condotto in questi anni e che purtroppo tempo ci faremo e che per troppo tempo sarà ci faremo ancora più a lungo ci sono sempre più reati che riguardano il potere politico e sempre più reati che riguardano il potere economico ora con queste parole Gratteri ha già emesso la sentenza è chiaro è il PM che sta facendo le indagini e per essere chiari non è che qualcuno mette in discussione il fatto che ci possano essere ragioni per operare in un determinato modo io personalmente penso sempre che prima di arrestare le persone bisogna calibrare bene e pensare bene a quello che si fa e a quello che comporta per le persone però questo è un altro paio di maniche ma diciamo sui giornali c'è di fatto il processo che si è già svolto cioè si è avviato in alcune pagine e su altre si è già svolto ma la parte più succosa di Gratteri è in questa intervista che viene fatta dal Corriere della Sera e che gli fa Giovanni Bianconi che poi è quello che fa la pagina intera in cui sviluppa il dibattimento processuale diciamo Procuratore Gratteri la sua inchiesta su un drangheta e politica esplode nel mezzo di una crisi di governo alla vigilia di nuove elezioni in Calabria come si fa a non parlare di giustizia d'orologeria? e ascoltate cosa risponde Gratteri le giuro che i tempi della politica non c'entrano noi abbiamo saputo che dovevamo arrestare l'assessore Talarico assieme agli altri quando è arrivata l'ordinanza del GIP all'inizio di gennaio a un anno di distanza dalla nostra richiesta a sei mesi dall'ultima integrazione le elezioni in Calabria erano fissate per il 14 febbraio avremmo aspettato il 15 per non interferire sulla campagna elettorale ma poi sono state rinviate ad aprile non potevo lasciare arresti in sospeso per decine di persone altri tre mesi cioè gli arresti sono stati in sospesi perché la richiesta fatta al GIP era di un anno fa poi c'è stata un'integrazione sei mesi fa quindi per un anno sono stati sospesi e diciamo il riferimento alle elezioni amministrative in Calabria è riferito a tre mesi in questo caso però diciamo si trattava di ed è quello che mettono in evidenza un po' tutti i giornali che se proprio si è da fare visto che non si è fatto per un anno magari se si aspettavano dieci giorni non si interveniva inevitabilmente nella questione politica come questa cosa ha comportato ma andiamo avanti e infatti il giornalista dice ma non poteva attendere almeno la soluzione della quasi crisi di governo Cese e l'Udc sono entrati nel gioco dei responsabili in soccorso del Premier Conte ecco qui c'è la risposta francamente più inquietante di Gratteli io fino all'altra sera gli ho sentito dire in tv che lui e l'Udc non sarebbero entrati nella maggioranza quindi questo problema non si è posto se ora qualcuno vuole sostenere il contrario lo faccia ma io l'ho sentito con le mie orecchie cioè Gratteri per stabilire se arrestare o non arrestare una persona e via dicendo e se questo influisce sulla politica o meno si mette addirittura a fare un'analisi politica di quello che il personaggio che vuole arrestare dice nell'aula del Senato o in televisione cioè se vuole fare o non fare una cosa cioè io la trovo una cosa da rimanere veramente basiti ma andiamo avanti perché ci sono altre domande interessanti e dice tra l'altro l'intervistatore però non sapete quello che si sono detti in quel pranzo a proposito delle prove che gli dicono ma come fanno quelli a saperlo le domande si sono fatti altre e dice Gratteri in quel momento Cesa era deputato europeo e non lo potevo intercettare però sappiamo da altre conversazioni che in quell'occasione hanno discusso di appalti con Anas e nelle altri enti statali per far lavorare Gallo c'è un'intercettazione in cui Talarico parla di Cesa delle forniture delle forniture sarà di Gallo e del 5% in altre Gallo dice chiaramente che c'è un accordo e che è salito a Roma appositamente per incontrare Cesa e il giornalista gli dice ma restano sempre dialoghi tra terze persone che parlano di lui la sua voce non c'è mai e qui la risposta di Gratteri con questo e allora che facciamo stiamo fermi e non chiediamo niente a nessuno non si tratta di amici al bar che parlano di calcio bensì di imprenditori legati alle cosche che parlano di politica e rapporti con i politici l'incontro con Cesa c'è stato come posso non chiederne conto e perché se ce ne chiede conto arrestando la gente va bene andiamo avanti e ultima domanda dice Bianconi che lo intervista ma perché le indagini della sua procura con decine o centinaia di arresti vengono spesso dimensionate dal tribunale dell'esame o nei diversi gradi di giudizio e risponde noi facciamo richieste sono i giudici delle indagini preliminari sempre diversi che ordinano gli arresti così è avvenuto anche in questo caso poi se altri giudici scarcerano nelle fasi successive non ci posso fare niente ma credo la storia spiegherà anche queste situazioni e qui c'è la cosa che vedrete farà più discutere di questa intervista perché Gratteri lancia una bomba e se ne accorge anche Bianconi e domanda cosa significa ci sono indagini in corso qualche pentito che parla anche di giudici e Gratteri risponde su questo ovviamente non posso rispondere insomma non si capisce se è un avvertimento o cosa ma insomma la questione è una questione direi abbastanza problematica e delicata vedrete vedrete che se ne parlerà a proposito di questo però voglio leggervi alcuni commenti perché anche questo è importante vorrei partire con da Repubblica con Federico Vitale ma questo non perché è molto importante il commento perché è importante come viene messa la cosa e per farvi capire quando io dico che la presunzione di innocenza che è anche un fatto culturale che diciamo la responsabilità dei giornali per come trattano le cose il titolo del pezzo di Federico Varese scusate non abitare a pagina 28 di Repubblica il titolo è Quell'equilibrio perverso e l'incipit è esattamente questo la nuova inchiesta promossa dalla procura di Catanzaro sta scatecando un terremoto ancora una volta i tentacoli di un'organizzazione criminale entrano nel salotto buono della politica la scena è conviviale in un elegante ristorante a pochi passi da piazza Barberini un imprenditore calabrese Antonio Gallo viene portato nel luglio 2017 al cospetto di un protagonista della politica italiana Lorenzo Cesa segretario dell'Udc e all'epoca europarlamentare organizzano l'incontro l'attuale assessore al bilancio della regione Calabria Francesco Talarico e due consiglieri comunali tutti in quota Udc le telefonate intercettate prima e dopo l'incontro lasciano pochi dubbi gli ospiti calabresi vogliono accreditare Gallo quale uomo fidato verso cui coinvogliare appalti pubblici Gallo ha anche progetti di espansione in Albania e spera che il politico romano possa intercedere per lui presso quel paese in cambio Gallo assicura un pacchetto di voti per fare eleggere Talarico al Parlamento nel 2018 mette tra parentesi elezione sfumata di un soffio quindi non è che non è stato eletto è sfumata di un soffio ma andiamo avanti Gallo è secondo gli inquirenti il riferimento operativo delle organizzazioni indranghetistiche basate tra Catanzaro e Cutro i voti che Gallo promette sono quelli che l'organizzazione criminale aveva convogliato in passato verso il senatore Antonio Caridi all'epoca in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa cioè questo è l'inizio del pezzo come se il processo si fosse già stato e che quella che è la tesi della accusa e avete visto in quanti processi questa tesi è stata come dire ribaltata poi dai tribunali ma questo fosse già la sentenza che è stata emessa salvo poi dopo aver fatto questa sparata nella prima parte aggiungere la riga spetterà al processo stabilire le responsabilità individuali e vale la presunzione di innocenza ma il quadro che emerge dalla lettura dell'ordinanza è sconcertante capite quando vi dico quando cerco di dire che c'è una costituzione che il garantismo non è una roba pelosa ma è il tentare di difendere in ogni modo la costituzione i suoi principi di civiltà giuridica sarà un compito difficile però diciamo gli altri gli altri diciamo gli editoriali le altre posizioni che ci sono di opinionisti e direttori di giornale sono sicuramente di taglio diverso vorrei cominciare dal giornale da Sallusti che la mette così puntualmente come la morte nei momenti di svolta la magistratura entra a piedi pari sugli stinchi della politica Lorenzo Cesa segretario dell'Udc in bilico tra il salvare e affossare il governo Conte martedui i suoi tre senatori hanno votato contro il governo ma sono tra i più corratteggiati da Conte è stato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa per aver frequentato un imprenditore filo mafio finito nei guai i fatti risalgono al 2017 ma il procuratore di Gattanzaro Nicola Gratteri ha scelto proprio queste delicate ore per recapitargli un avviso di garanzia Gratteri è lo stesso magistrato che nel 2019 chiese l'arresto del governatore PD della Calabria Mario Oliverio costringendolo alle dimissioni che portarono a nuove elezioni l'arresto non fu poi concesso dal GIP per manifesta infondatezza dell'impianto accusatorio e Oliverio per intenderci pochi giorni fa è stato prosciolto per aver commesso il fatto così vanno le cose in questo paese anche se a tutela personale aggiungiamo che la contemporaneità dell'avviso di garanzia accesa alla crisi politica che vede lo stesso cesa ago della bilancia è soltanto e ovviamente una banale coincidenza e scrive ancora Sallusti immagino che il dottor Gratteri abbia avuto i suoi buoni motivi per intervenire sulla scena oggi e non una settimana fa o tra 15 giorni quando si presume il quadro politico si sarà chiarito semplicemente ci auguriamo che questi motivi si rivelino nel tempo più solidi di quelli che portarono a indagare inutilmente il governatore Riverio che la giustizia abbia guardato con grande interesse non solo agli affari e agli intrallazzi della politica ci mancherebbe il contrario ma anche alle sue dinamiche e agli snodi che nulla hanno a che fare con l'ipotesi di reato non è una leggenda né una malizia è purtroppo la storia recente di questo paese che non può essere archiviata né minimizzata mercoledì andrà al voto dal senato la relazione sulla giustizia è firmata a buona fede una riforma che concede ancora più poteri alla casta dei magistrati tanto cara ai grillini e a buona parte della sinistra Renzi si è sfilato e ha annunciato il suo voto contrario vedremo se centrodestra saprà accogliere l'occasione questo sul giornale Sallusti ma voglio segnalarvi anche Sanzonetti sul riformista che la mette così Cesare non ha votato per Conte a lui ci pensa Gratteri nuova retata ordinata dal PM e cosa dice Sanzonetti eccolo Gratteri è qui sempre in pista sul piano mediatico che è quello che a lui interessa di più il processo rinascita Scott non sta andando benissimo i giornali e le tv se ne fregano un po' lui ha portato a casa il risultato di essere scelto di esserci scelto da solo il giudice perché la giudice assegnata dal tribunale aveva la fama di giudice troppo seria e rigorosa l'ha fatta cambiare in Italia può succedere però le tv sembrano un po' scettiche su questo processo e questo gli fa male occorre un rilancio immediato e il rilancio si chiama operazione di basso profilo di buono c'ha il numero di poliziotti impiegati 300 per 13 arresti gli elicotteri 10 e due nomi Francesco Talarico assessore regionale e Lorenzo Cesa segretario dell'Udc c'è qualcosa contro di loro? no questo no c'è solo un pranzo che non piace a Gratteri con un boss mafioso? no con un imprenditore che Gratteri considera ci sono intercettazioni che incastrano Cesa? no solo qualche intercettazione che lo scaggiona e Talarico voleva fare il deputato e quindi siccome è calabrese probabilmente ha chiesto l'aiuto dell'andrangheta lo ha avuto? non si sa però non è stato eletto niente di nuovo tra i magistrati parentesi che sono anche talvolta persone spiritose chiusa parentesi queste operazioni in gergo vengono chiamate Gratterate i magistrati sanno benissimo come sono andate sin qui le inchieste di Gratteri tutti flop e sanno che anche le inchieste future a occhio avranno successo solo in termini di vendita dei libri in libreria stavolta però c'è una novità il sospetto legittimo dell'inchiesta d'oroleggeria Cesa è il capo dell'Udc che nei giorni scorsi ha impedito all'Udc di dare la fiducia al governo Conte e Conte ora sta cercando in tutti i modi di trovare nuovi voti a suo favore perché se no Mattarella gli mette un dictat Conte vuole l'Udc è assurdo sospettare che Cesa sia stato chiamato a pagare con incolpazione per associazione a delinquere con l'aggravante mafiosa la sua posizione intransigente troppa malizia mica tanto la politica in Italia da molti anni funziona così questa è la mara conclusione di Sanzonetti chiudo questo capitolo con Andrea Sverson perché mette in evidenza un altro aspetto di questa roba che riguarda poi i giornalisti in particolare una dice Andrea Sverson Andrea Mercenaro sul foglio senti dire un po' più spesso di qualcuno che ha imparato per esperienza lungo decenni di cronache giudiziarie come le persone indagate sbattute in prima pagina vengono poi prosciolte di sovente ma con gravi danni collaterali che certamente è vero stravero mai commettere l'errore però di diventare unilaterali per l'altro verso le numerose vittime di inchieste giudiziarie piene soltanto d'aria dove può perfino succedere che l'inquirente si pavoneggi subiscono senz'altro i gravi danni chiamati collaterali questi riguardano loro stessi le loro famiglie i loro lavori poi diciamo pure per comodità la rovina di tutto il resto delle loro vite eppure è giusto ammettere che gli indagati e sbattuti in prima pagina e infine prosciolti producano accanto ai danni anche benefici collaterali di una qualche consistenza la signora Fiorenza Sarzanini persona mi dicono simpaticissima tra l'altro grazie a quei benefici collaterali è diventata vice direttore del Corriere della Sera più che soldi status questo è quello che dice Andrea Sverson bene chiudiamo anche questo capitolo ci rimane poco tempo c'è da dire della opposizione va bene diciamo per l'opposizione prendiamo il Corriere della Sera pagina 11 Berlusconi in campo datemi l'elenco di tutti i dubbiosi li chiamo e li convinco e poi questo è quello che ci dice Tommaso Labate a pagina 11 il Corriere della Sera mentre a pagina 10 centrodestra al Colle chiede il voto il Parlamento non va più avanti insomma questo del voto ieri l'incontro con il Presidente della Repubblica anche se diciamo c'è sulla prima pagina del foglio qualcuno che la vede un po' diversamente dice ma al voto ma davvero Salvini Meloni italiani al Quirinale chiedono il voto ma non pronunciano la parola elezioni e anche questo viene ripreso nella pagina 2 dell'inserto del foglio Carmelo Caruso al Quirinale come da Freud chiedono il voto ma non le elezioni Salvini Meloni italiani a Mattarella maggioranza inconsistente Berlusconi e Giorgetti si distanziano questo è il foglio ma per capire anche che cosa invece succede nel centrodestra qualcosa di aggiuntivo bisogna prendere la stampa perché sulla stampa ci sono insomma cose che fanno riflettere perché nonostante su altri giornali c'è per esempio un'intervista se non sbaglio di Tagliani al Messaggero nel quale dice per noi il voto non c'è possibilità di altre alleanze e compagna bella invece la stampa ha notato ieri delle dichiarazioni per esempio quella di Maria Carfagna l'apertura di Carfagna e Toti a un governo di unità nazionale Meloni Salvini e Tagliani al Quirinale le elezioni sono l'unica soluzione Berlusconi sulla stessa linea ma gli esponenti centristi crescono i dubbi nel Taglio Basso c'è un'intervista a Brunetta patto per salvare l'Italia il centrodestra non potrebbe dire no la proposta del deputato forzista in 100 giorni si può cambiare rotta e a questo proposito di segnare a Marcello Sorgi un partito trasversare per larghe intese è quello che prevede l'opinionista della stampa insomma il centrodestra in queste condizioni Libero lo segnalo per dovere di cronaca ma ovviamente senza condividere nulla di quello che si dice però Libero se la prende con il Presidente della Repubblica Renato Ferrina arbitro non parziale il Quirinale incoraggia Conte a reclutare Rivolta Gabbana Mattarella avrebbe il potere di sciogliere le camere e porre fine al mercimonio di Poltrone purtroppo ha deciso di non agire e Giuseppe ne sta approfittando questo è su Libero e Mattarella poi per quanto riguarda il recovery le pagine successive alla prima e anche la prima basta ritardi sul recovery sono dedicate dalla Repubblica a questo si dice l'allarme della BCE bisogna accelerare sul recovery plan e poi c'è questa è Tonia Mastrobuone poi c'è un'intervista a Gualtieri nella pagina accanto la 3 non esiste un caso Italia nell'Unione Europea ma faremo più riforme e in realtà Gualtieri dice una cosa a cui non crede nessuno perché invece il caso Italia esiste a questo proposito vi segnalo anche Domenico Siniscalco nella pagina 29 mi pare del sì 29 della Repubblica c'è un articolo l'economia non si fa da soli il recovery il monito di Lagarde insomma che dice ci sono dei paesi che non sono ancora minimamente pronti al recovery in questo senso per smentire un po' quello che dice Gualtieri basta prendere il sole 24 ore che dice non mi ricordo dove ma insomma dice che in realtà invece l'Europa è assai preoccupata per quanto riguarda la manovra segnalo la stampa a pagina 11 cassa integrazione covid fino all'autunno partite IVA un anno bianco senza contributi Gualtieri scrive alla UE per l'ok extra deficit gentiloni chiarire tempi obiettivi dei progetti del recovery ecco vedete che questo problema c'è poi se volete nel taglio basso c'è anche Gabriele Stefani che dice la rivolta dei navigator un anno con i disperati e ora ci lasciano a casa i racconti dei laureati che dovevano cercare l'impiego a chi ha il reddito ci siamo occupati degli ultimi tante promesse ma il contratto scade questo è il problema dei navigator c'è il tema dei commissari che è un altro tema diciamo che vedrete prenderà campo nella polemica nelle prossime ore perché cosa ci dice la Repubblica grandi opere quanti indagati tre nuovi commissari ma Conte fa già dietro fronte escluso dalla lista Roberto Ferrazza sotto inchiesta per il crollo del ponte Morandi ma si dice che c'è anche Vincenzo Marzicco coinvolto nell'inchiesta sul crollo del ponte di Albiano è indicato come commissario per la statale Fondavalle del Biferno e altri tre interventi e poi c'è anche Pasqualino Monti il commissario scelto per il porto di Palermo che è indagato dalla procura di Roma in un'inchiesta su appalti e corruzioni e di spalla c'è un fondo di Sergio Rizzo che ha il suo commento così finisce la stagione dell'innocenza per i 5 Stelle adesso vorrei dire a Rizzo che forse lui si accorge adesso che è finita la stagione dell'innocenza ma guardate soltanto le parole di Di Battista sui responsabili eccetera eccetera ha voglia a cercare la parola dell'innocenza e comunque se volete diciamo a proposito non dei commissari ma delle opere c'è il commento poi di Santilli sulle 24 ore scelte ancora confuse non è ancora chiaro chi sia il super commissario per le grandi opere infrastrutturali e non è chiaro cosa gli si chieda va bene ma insomma questo è per le grandi opere per quanto riguarda le misure sul Repubblica pagina 13 trovate un po' di domande e risposte che riguardano il Covid ovviamente un po' di domande e risposte sui ricongiungimenti solo con il partner ma sono esclusi i fidanzati insomma chi è consentito o meno vedere fuori regione nelle seconde case si può andare senza parenti tutte domande e risposte che trovate sulla Repubblica mentre invece segnalo a pagina 8 del giornale il governo già si prepara al lockdown di primavera Gualtieri l'extra deficit servirà anche il caso di altri vincoli di storia ancora nel caos insomma pare di capire che non si capisce se per la terza ondata o per che cosa si dà per presupposto sul giornale che ci sarà un lockdown di primavera sui vaccini c'è sempre il solito dibattito le polemiche con la Pfizer eccetera eccetera ma non abbiamo tempo mentre invece quello che sicuramente diciamo ci mancava perché abbiamo avuto la variante inglese la variante spagnola la variante brasiliana e per stare tranquilli abbiamo adesso anche la variante francese il focolaio impazzito alle porte di Parigi la Francia ora teme una nuova variante in ospedale a compegne colpiti 170 pazienti 70 sanitari vaccinazione in ritardo il ministro verso il terzo lockdown segnalo sul riformista per quanto riguarda i temi della giustizia a pagina 7 ancora la questione Palamara Troian in questo caso anche diciamo l'iniziativa di Cosimo Ferri deputato di Italia Viva Troian illecito ma tutto ok Ferri silenziato dalla PM il deputato di Italia Viva denunciò che il Gico intercettò illegalmente l'incontro con l'ex zar delle nomine ma ha finito chiese l'archiviazione zero indagati insomma dice contesta il riformista che la indagine sul Gico che ha usato in questo modo il Troian è stata affidata al Gico va bene no va bene insomma è così mentre invece segnalo su più di un giornale ma in particolare su Libero la vicenda Coltrada che è un uomo che diciamo non finirà mai di passare le pene dell'inferno Coltrada tortura eterna via il risarcimento per il carcere ingiusto per la Corte Europea fu detenuto illegalmente per la Cassazione pure ma ora gli viene tolto l'indennizzo e non si capisce perché all'ex 007 89 anni erano dovuti 667 mila euro in tra l'altro si dà notizia anche qui sul Libro e anche su altri giornali in che c'è la prima sentenza per rati finanziari in Vaticano il Vaticano condanna se stesso dopo un processo farza allo Ior ed è Angelo Caloia che viene processato bene la notizia della revisione da parte della Cassazione del processo nei confronti di quelli che vengono considerati gli assassini di Martina Rossi che però nel processo di appello erano stati assolti Martina Rossi si torna in aula nuovo processo per i ragazzi la Cassazione annulla le due assoluzioni i genitori è un passo verso la giustizia e poi c'è da menzionare questa vicenda allucinante della quale veramente fa brivido soltanto parlare ma la citiamo prendendo le due pagine successive alla prima della stampa a dieci anni muore soffocata dalla cintura era una sfida sui social dei ragazzini l'incidente nel bagno di casa il social netto vicini alla famiglia la sicurezza è la nostra priorità e qui si aprono poi mille cose medici psicologi è inutile che e dice Antonella l'infanzia perduta è l'ultima frase alla sorellina vado in bagno non entrare insomma questa è la follia di quello che può accadere nel nostro paese e poi sui giornali ci sono varie cose di politica estera ma insomma domina Biden i primi provvedimenti presi quelli che riguardano soprattutto le mascherine le vicende legate al virus ma se ne attendono degli altri bene con questo abbiamo concluso la rassegna di oggi e se volete ci vediamo lunedì prossimo alle sette e mezza buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti